Buongiorno a tutti, sono IW5IFX Leonardo e oggi, che è domenica 10 agosto, sono insieme all'Italia Vittor 3 Kilo Whisky e Alessandro ad attivare una referenza a un parco naturale che è il Parco Naturale di Colfiorito, Palude di Colfiorito, IFF271. In questo momento stiamo utilizzando un dipolo a 40 metri e una delta loop per i 20 metri. In questo momento sta operando Alessandro, il Q0 Fox Oscar di Foligno portatile, la sezione a di Foligno e fino a poco fa ho attivato io la referenza. Tutto qua, la posizione non è precisa in un monte ma la referenza è qui quindi ci siamo un po' adeguati ma comunque è andato bene, con due ore di attività abbiamo operato e fatto diciamo più di 80 QSO che sono il minimo. Tutto qua, vi saluto, spero di collegarvi spesso in altre attività di IFF73 e ciao ciao!